Allora, ascoltatemi bene, oggi è 2 agosto, quindi siamo in piena estate e questo è un video rivolto solo ed esclusivamente agli uomini ofroci. Io ho voglia di fare sesso, ho voglia di fare sesso in maniera proprio sproporzionata ecco, vi lascio praticamente l'indirizzo dove ci dobbiamo incontrare, praticamente voi dovete venire nel mio paese che è Neviano, si trova in provincia di Neviano e non vi lascio praticamente l'indirizzo dove abito per questioni di sicurezza perché su internet praticamente si fanno parecchi scherzi e vi indico il punto dove ci dobbiamo incontrare, si fanno le dovute conoscenze chiaramente e poi naturalmente ci si stabilisce la scopata, ci si stabilisce. Io a casa mia non è molto acudita, solo che è un po' da sistemare. Comunque nella mia camera da letto c'è un letto matrimoniale molto grande e ci si può scopare. Spero di essere stato chiaro, fatevi sentire e io vi aspetto. Ciao. Ciao. Come hai osato sfidare la tina. Come hai osato Non lo dovevi fare. Che discusa, zè madonna. Toglia. 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 Incompetente. 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 Maleducata. 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 Per ritardare la eaculazione precoce. Perché? E Dio dice perché Giuseppe ha comprato i privilegi? Perché io soffro di eaculazione. Soffro. Quando io faccio le secche, dopo due minuti già vengo. Oh my god! Oh my god! Ho scaricato il mio uccello che era pieno di sperma. Una lesbica che va a leccare la figa ad un uomo sessuale. Questo non lo tollerò! Questo non lo tollerò! Questo non lo tollerò!